ciao a tutte le persone interessate o comunque curiose del seminario che andremo a svolgere il 14 di aprile dal titolo teatralità e tarocchi alla ricerca di sé due brevi chiacchiere sarò più succinta possibile volevo appunto fare una presentazione di tipo assolutamente discorsivo colloquiale quindi assolutamente così come si dice abbraccio io sono Donatella Bartolomei e propongo questo seminario che ho già proposto e attivato e avviato in più occasioni non solo nelle nostre zone ma anche in altre zone per esempio l'ho fatto alcune volte a Perugia è uno stage diretto agli adulti a chiunque avesse voglia di fare un'esperienza diversa un lavoro su di sé mediante il gioco mediante il lavoro su sistemi simbolici come appunto i tarocchi gli arcani maggiori in particolare a me piace molto il lavoro di amo tantissimo il lavoro di Jodorowsky su questo questo tipo di simboli di archetipi eccetera ma non solo ci saranno anche altri sistemi simbolici e passeremo una giornata a fare un lavoro in qualche modo di intuizione condivisione mediante esercizi sensoriali mediante il gioco teatrale l'uso della voce libera il training esercizi di rilassamento esercizi di interpretazione di quello che è il simbolo degli archetipi la presentazione in breve che ho scritto esordisce dicendo un'esperienza entusiasmante magica creativa e che condurrà tutti i partecipanti a delle nuove scoperte questo è in dubbio ecco poi al di là che ognuno farà le sue valutazioni ognuno lo vivrà in modo diverso però quello che io desidero fare proprio mediante l'entusiasmo lavorare sullo sviluppo della creatività personale e in un percorso che attua al benessere ho anche scritto contattare il fanciullo che alberghiano ognuno di noi giocare abbandonarsi al flusso creativo sono tra i mezzi più appropriati per conoscere meglio se stessi puntare all'apertura del proprio cuore e lasciare libero il famoso genio che vive nell'animo di ognuno di noi ed attende solo di essere liberato io penso profondamente sono fermamente convinta che questa affermazione sia reale perché in ognuno di noi esiste davvero un genio una parte assolutamente creativa e creatrice che se lasciamo libera e l'ascoltiamo a livello profondo ci fa scoprire veramente una via per l'armonia il benessere personale mediante la creatività che potrà portare davvero a scoperte bellissime io non pretendo di fare tutto in una giornata chiaramente questo sarà uno spunto sarà un via sarà un inizio di quello che può essere un percorso più ampio oppure anche una singola esperienza che darà degli spunti di conoscenza di sé mediante dei mezzi che magari una persona non ha mai approcciato o anzi in altri casi sì ma in modo differente non è necessario avere nessuna competenza né in ambito di tarocchi né in ambito di teatro né in ambito musicale perché lavoreremo molto con la musica come mezzo di coinvolgimento né in ambito vocale eccetera è un'esperienza che può fare chiunque chiunque abbia voglia di mettersi in gioco io sono a disposizione tramite il centro per qualsiasi chiarimento dettaglio dubbio domanda perplessità che si possa avere ed esiste anche una presentazione accurata e dettagliata che io ho fornito e che ognuno può leggere per documentarsi meglio quindi io vi aspetto e auspico che questa esperienza sia veramente entusiasmante bella leggera e profonda allo stesso tempo grazie 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 grazie